Prof. Cutulo, esiste ancora un bisogno insoddisfatto per i pazienti e per i medici? Sì, nel campo della reumatologia, 200 malattie, esistono molte insoddisfazioni ancora, dal punto di vista ovviamente terapeutico. La diagnosi ci stiamo avvicinando all'ottimo. Nel campo di vista terapeutico ovviamente i problemi sono anche questi, molti, dall'efficacia combinata a una sicurezza che è il massimo dell'obiettivo e anche alla possibilità di avere somministrazioni praticamente meno frequenti possibile, meno invasive possibili. Questi sono i grossi problemi e oggigiorno possiamo dire che gran parte di questi sono stati superati, però rimane ancora il problema che nel momento in cui io ho fatto la diagnosi, proprio perché ho un eccesso di prodotti, un eccesso di farm, un eccesso di possibilità, non è ancora bene individuato qual è il tipo di paziente e qual è la tipologia di farmaco meglio abbinabile a quel soggetto per ottenere il massimo effetto con la minore spesa e il minore rischio possibile. Direi che però stiamo avvicinandoci a questo perché riusciamo a creare dei sottotipi di pazienti con l'indagine sia dal punto di vista degli esami di laboratorio sia dal punto di vista dell'imaging e dire questo malato potrebbe rispondere meglio a questi farmaci e quindi non perdiamo tempo, non rischiamo con altri prodotti. Ripeto, questa è forse la cosa più importante, i prodotti li abbiamo, ne stanno arrivando altri, forse dobbiamo meglio ottimizzare e focalizzarsi in poche parole, quello che dicevano i reumatologi francesi, trattare il paziente a la carte. Sono entrati in scena i farmaci biosimilari, secondo lei quale contributo possono dare alla pratica clinica del medico e anche al sistema salute? Certo, quando affronto questa domanda mi viene in mente il discorso dei cellulari, dieci anni fa avevamo determinati cellulari e poi volendo o non volendo sono cambiate le caratteristiche, sono aumentate, migliorate, forse qualcosa è peggiorato. Ora, qui ci troviamo un discorso diverso, abbiamo dei farmaci che per ragioni varie scadono i brevetti del farmaco originale, ci sono grossi problemi di budget per poter trattare tutti con farmaci costosi, messi tutti assieme questi, diciamo così, questi limiti hanno creato l'ottimo terreno per lo sviluppo e per l'uso dei biosimilari, con però sempre un grande rispetto del malato, in che senso? Il malato propone se stesso al medico, il medico decide quale farmaco ti darò, non posso seguire un'imposizione, se non ho ancora abbastanza esperienza non posso rischiare e provare, come si dice proviamo un farmaco, cerco di andare sul farmaco di cui ho esperienza. Quindi il biosimilare come i nuovi cellulari moderni e veloci, piano piano, per rovi motivi sostituiranno, come anche hanno in parte sostituito i generici, però non è un obbligo e soprattutto bisogna avere abbastanza esperienza e sicurezza perché con la salute non si scherza. Quale futuro possiamo immaginare quindi in ambito reumautologico? Guardi, noi sappiamo che già da dieci anni si usano i biosimilari in altri campi, emato-oncologici, le eritropoietine, tanti altri fattori di crescita sono già nel mercato da più di dieci anni e i risultati fino ad ora sono stati validi in una visione retroattiva. Quindi possiamo prendere l'esperienza precedente per pensare a quello che succederà invece nel campo reumatologico dove si stanno affacciando i primi biosimilari, visto che le licenze originali per i biologici stanno scadendo e quindi è aperta la gara a chi produce un farmaco molto simile a costo minore. È chiaro anche che il discorso del minor costo potrebbe essere forse la vera ragione per cui potrebbero un domani le aziende sanitari imporre, ma sempre nel rispetto del malato e nel senso in cui lo specialista, il medico decide si lo approva. Questo in effetti sia la società italiana di reumatologia, sia le agenzie regolatorie, l'EMA europea, l'FDA hanno sempre tenuto fisso questo concetto. Non si può fare automaticamente uno switch, non si può imporre, anche se devo dire in alcune nazioni del nord Europa, per esempio in Norvegia, in Estonia o in Olanda, è quasi obbligatorio l'uso ma con grande contestazione e insoddisfazione da tutte le parti. Quindi diciamo che nel nostro paese senz'altro ci sarà uno sviluppo dei biosimilari e fa parte della storia dello sviluppo della medicina, però andiamo molto con attenzione, con accortezza, vogliamo i dati chiari, ce ne sono molti e questo rappresenterà chiaramente la possibilità di trattare ancora più pazienti, visto che i budget si riducono e quindi necessariamente qualcuno resta fuori. Così potremo introdurre più malati. Grazie.